Gillo, secondo quali criteri o quali criteri utilizzerete per compilare le liste? Non c'è un criterio preciso, dovremo scegliere i migliori candidati. Naturalmente dovremo cercare di tener conto del territorio, la provincia storicamente si divide in 3-4 zone, la città, il comune capoluogo, la Val di Magra, la riviera, la Val di Vara. Se è possibile bisogna dare rappresentanza ad ognuna di queste zone, considerando anche la rappresentanza di genere. In più penso che sia importante, sempre all'interno di questi criteri, cercare di dare anche rappresentanza alle esperienze amministrative e anche alle esperienze di novità. Quindi qualche d'uno nuovo, qualche d'uno che ha già un'esperienza amministrativa. E poi comunque ripeto, alla fine la lista deve essere fatta con le persone, da coloro che si impegneranno a realizzarla, che siano ritenute più rappresentative, più competitive sul territorio. Una domanda secca. Il candidato presidente di Liguria Libera? Non c'è un candidato di Liguria Libera. Noi abbiamo proposto un metodo, se fosse stato accettato dal tavolo della coalizione, allora in quel caso avremmo proposto Enrico Musso, il professore Enrico Musso, che ha già una discreta esperienza, sia come senatore, come consigliere comunale. Il nostro metodo non è stato accettato e quindi non abbiamo proposto un candidato. Attualmente ci sono dei candidati, uno di Forza Italia e uno della Lega, due rispettabilissime persone e non spetta più a noi decidere perché la decisione compete al tavolo nazionale di Forza Italia e Lega. Noi abbiamo già detto che ci sono spazi, se si vuole vincere, anche per altre valutazioni, ma di nomi non ne faccio perché fare i nomi in questo contesto significa solamente bruciare le persone.